grazie E' un cazzo, ma resta su, la voce resta su. Io lo so, Luca è furbo, Luca è furbo. Bravo Luca! Grazie. 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 Ma che bello. Ma che bello. Ma che bello. Ma che quasi sei. Andrea stai lì. Ok, li prendo tutti. Wow. Ma fa lo risultato. Non sei simmetrico. Non giuttare le mani. Così. Benissimo. No, è la sedia che non serve. Ti metti davanti. Inizia e sei provato. Facciamo il vento. La dura vita degli attori. Stucca. Oh. Nooo. 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 Ascolta. Adesso ci direttiamo. Nooo. Quanti armellini ci vuoi. Guarda non lo lascia stai armellini eh. Non è coniglio eh. Coniglio così. E i gamarelli non partono. Cioè, la vita di loro. Ohhhh. Coniglio. Eh, ti ho detto. Aspetta un attimo. Adesso andiamo. Adesso andiamo. Adesso andiamo. Non ho diritto eh. Non ho diritto. Basta. Nooo. Solo le... Il prevosto di Monza e il papa e i flabelli. Ilさい, il papa e i cagatini. Eh, sì, sì, sì. È vero. Il padre. Il padre. Il padre di Brack. Quello medioso. Medievale. Qual è il padre? Un padre. Un padre. Un padre. Sì. Non c'è un padre. E il padre. C'è un padre. Sì, sì. C'è un padre. Un padre. C'è un padre. Un padre. E il padre. Un padre. Grazie.